Questo fa parte del, diciamo così, è uno dei tanti interventi di investimento che AMI ha programmato nell'ultimo biennio. Saranno tutti utilizzati nella città di Urbino, saranno utilizzati soprattutto per il trasporto degli studenti e ci auguriamo anche per altri utenti che mi auguro prestissimo riempiano le strade di Urbino come un tempo. Sono mezzi di ultima generazione, sono tutti Euro 6, a basso impatto ambientale, dotati anche di una serie di accessori come tutti i mezzi nuovi che compriamo da un certo periodo di tempo in qua, quali ad esempio la videosorveglianza a bordo. Avete visto che c'è un sistema di contapasseggeri, il cliente dall'esterno si rende conto se ci sono dei posti liberi o meno e soprattutto questo è utilissimo in questa fase particolare dove la capienza è ridotta del 50%, che speriamo, come dicevo prima, che finisca tutto presto. Nell'anno del 2020 già ne avevamo acquistati e messi in esercizio altri 6 e altri 5 seguiranno nei prossimi giorni. Tutto questo per cercare di dare sempre un servizio migliore ai cittadini, alla città, all'ambiente, perché sono tutti Euro 6 di ultima generazione e la politica aziendale è quella di continuare con questo forte rinnovo del nostro parco che negli ultimi 3 o 4 anni già abbiamo rinnovato circa il 30%, tra l'altro questo 30% fa circa la metà dei chilometri complessivi. La nostra politica sarà quella di continuare su questa strada dando sempre più attenzione all'utenza e all'ambiente. Devo ringraziare il Presidente Luciano Balducci e il Direttore e tutto il suo staff perché veramente stanno facendo un ottimo lavoro, hanno riportato la società negli ultimi 4-5 anni a un livello veramente ottimale, capace di fare gli investimenti per dare un servizio come stamattina viene presentato, con mezzi più adeguati, idonei per i disabili, cioè tutte le caratteristiche che un trasporto di ultima generazione debba avere. Quindi ringrazio ovviamente la Regione che sta facendo un programma di investimenti importante sul tema del trasporto pubblico perché dobbiamo assolutamente andare in linea con quelle che sono le linee guida europee sul trasporto a basso impatto, quindi sul basso impatto ambientale, sul trasporto pubblico perché dobbiamo sicuramente tutti quanti pensare che dobbiamo utilizzare di più il trasporto pubblico e per fare questo la nostra società partecipata, di cui Urbino è il socio di maggioranza, ho spinto anch'io perché vengano fatti gli investimenti per dare un servizio adeguato ai tempi che viviamo.